Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale, io sono Riccardo e come sapete qui parliamo di tecnologie spiegate in modo semplice e comprensibile per tutti. Nel video di oggi andremo a recensire insieme lo smartphone gaming, ma non solo gaming, attualmente più potente al mondo, sto parlando di Red Magic 9 Pro. Il classico telefono da gaming che ormai abbiamo visto più volte su questo canale in tutte le sue edizioni e versioni, è arrivato appunto alla nona versione e con il nuovissimo processore Snapdragon 8 di terza generazione. Senza perderci in chiacchiere dunque andiamo a vedere cosa penso di questo smartphone che ve lo anticipo è assolutamente spettacolare sotto tutti i punti di vista. Prima di procedere come al solito un piccolissimo disclaimer, il dispositivo me l'ha inviato l'azienda per una recensione, ma come sapete io vi dico sempre quello che penso, se un prodotto mi piace ve lo dico, se non mi piace ve lo dico allo stesso modo, perché non vi devo vendere niente. Detto questo, come di consueto, iniziamo dall'unboxing e vediamo cosa c'è in confezione. All'interno chiaramente troviamo lo smartphone, una cover trasparente semi-rigida, un caricatore potentissimo da 80 Watt, un cavo USB-C e una pellicola già applicata sul display. Come al solito Red Magic mette a nostra disposizione una confezione davvero molto molto ricca. E passiamo adesso a parlare di design e materiali dello smartphone. Il design di questo Red Magic 9 Pro rimane squadrato come in passato, ma ora risulta molto più bello, elegante e raffinato. Le cornici frontali sono ridotte al minimo, anche se purtroppo non sono ancora perfettamente simmetriche tra loro, visto che il mento inferiore è leggermente più spesso dei lati. La selfie cam è sempre nascosta sotto al display e ora risulta veramente invisibile. Sul retro abbiamo una grande novità, le fotocamere sono integrate nella scocca, che quindi risulta completamente piatta e senza nessuna sporgenza. Questo permette a Red Magic 9 Pro di non dondolare mai quando posizionato su una superficie piatta. Come sempre i materiali sono al top, frame in alluminio opaco ai lati e retro in vetro trasparente, che lascia intravedere alcuni componenti interni come il processore e la ventola RGB. Sempre presenti sul frame laterale i trigger dorsali touch, indispensabili per giocare al meglio. Tra l'altro in questo modello risultano ancora più larghi e comodi da premere e si possono sfruttare come LED di notifica. Rispetto al precedente modello, ora le fotocamere si trovano in alto a sinistra, il tasto d'accensione è più piccolo e rotondo e in generale tutti i tasti sono più comodi da premere. Inutile girarci attorno, Red Magic 9 Pro è uno dei più bei telefoni che abbia mai visto e giustamente è contraddistinto da un design futuristico, moderno, aggressivo, tipico dei dispositivi orientati al gaming. Nel complesso è molto ben assemblato, robusto e bello da vedere, ma le sue dimensioni sono generose, 163,98 x 76,35 x 8,9 mm. Non si usa con una mano ed è scomodo da tenere in tasca anche a causa dei suoi 229 grammi di peso e della forma a mattoncino con angoli poco smussati. Piccolo Neo è molto scivoloso, quindi consiglio di usarlo sempre con una cover. E passiamo adesso a parlare del suo schermo, che è veramente fantastico. Come già anticipato ha delle cornici sottilissime e nessun foro per la selfie cam. A livello tecnico il display è un AMOLED da 6,8 pollici, full HD+, 120 Hz, con frequenza di campionamento del tocco a 960 Hz con un massimo di 2000 e PVC dimming da 2160 Hz, leader della categoria. È protetto da vetro Gorilla Glass 5 e rispetto al passato migliora tantissimo la luminosità massima che ora arriva a 1600 nits. Nel complesso i colori sono ben riprodotti e comunque personalizzabili, la frequenza di aggiornamento è velocissima e gli angoli di visione sono ottimi. Insomma abbiamo il meglio del meglio a nostra disposizione per giocare e sicuramente questo display può essere paragonato a quello di tanti altri top di gamma Android. E passiamo adesso a parlare di hardware e prestazioni, un aspetto dove questo smartphone ve lo dico subito eccelle senza ombra di dubbio. Su Red Magic 9 Pro infatti abbiamo a disposizione il miglior hardware oggi disponibile al mondo. Tutti ma proprio tutti i componenti sono al top e garantiscono prestazioni incredibili in qualsiasi situazione e con qualsiasi applicazione. Il processore infatti è il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 3 realizzato con processo produttivo a 4 nanometri. Al suo fianco troviamo la nuova GPU Adreno 750. Come nei precedenti modelli anche in questo caso il SoC è coaduvato da un processore Red Core 2 Pro che si occupa di gestire audio, luci RGB e feedback aptico in modo da alleggerire il carico sullo Snapdragon che si può così concentrare su grafica e potenza di calcolo. Al loro fianco troviamo 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0 non espandibile. A gestire il calore generato da questo motore potentissimo troviamo un sistema di raffreddamento a 10 strati chiamato ICE 13 al quale si aggiungono una ventola super silenziosa da 22.000 RPM e una camera di vapore più grande rispetto al passato. Questa tecnologia permette allo smartphone di non scaldare mai, neanche quando viene messo sotto stress per lunghe sessioni di gioco. Da segnalare altri importanti aspetti. Il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi 7, una porta USB 3.2 con uscita video di Playport 4K 120 fps. Il jack da 3.5 mm, ormai introabile su qualsiasi smartphone, chiaramente NFC e il sensore per le impronte digitali sotto un display molto veloce e preciso. Non mancano poi due potentissimi speaker stereo con tre microfoni, la connettività dual sim, un GPS dual band L1 più L5 e anche un led infrarossi per controllare alcune apparecchiature, come ad esempio impianti audio, tv o climatizzatori. Manca qualcosa? Assolutamente sì, purtroppo manca ancora l'impermeabilità e non c'è nemmeno la ricarica. wireless, due aspetti che purtroppo ormai mancano da veramente tanto tempo e forse sarebbe l'ora di introdurli. Manca purtroppo un'altra cosa, non gravissima, ma per alcuni potrebbe essere un problema, manca il supporto per le eSIM. E come sempre, dopo l'hardware passiamo al software. In questo caso il software migliora leggermente rispetto al passato, ora è più veloce del 30%, ma siamo ancora lontani dalla perfezione e si nota qualche sporadico bug. Su questo smartphone troviamo Android 14 con interfaccia personalizzata Red Magic OS, giunta qui alla sua nona edizione e sempre molto simile alla versione stock di Android. Fortunatamente non è presente nessun bloatware. Oltre a tutte le funzioni dedicate al gaming, lato software troviamo qualche utile aggiunta, come il supporto per le app in finestra, la barra laterale per app e scorciatoie, la possibilità di controllare il comportamento della ventola, la possibilità di duplicare le app, l'espansione virtuale della RAM e lo spazio privato per proteggere i dati personali. Nel complesso il software è molto fluido, veloce e scattante in qualsiasi situazione, come ci si aspetterebbe da un top di gamma di questo calibro. Purtroppo però devo segnalare che rimane ancora il problema di qualche traduzione errata nei menu di sistema. È veramente assurdo che ci portiamo avanti ancora questo problema dopo così tanti anni. Sarebbe veramente il momento di risolverlo. Come di consueto poi premendo lo slider laterale possiamo attivare la modalità di gioco, che ci dà accesso a tantissime funzioni esclusive dedicate proprio al gaming, come ad esempio la possibilità di regolare la sensibilità del touch, di incrementare le performance, di modificare i colori sullo schermo, di attivare il wifi a bassa latenza, di attivare la registrazione dello schermo, di vedere il consumo di risorse in tempo reale, di personalizzare il comportamento dei trigger, di accedere a comandi rapidi personalizzabili, di attivare aiuti grafici come puntatori, ingrandimento, inversioni colori, di attivare delle macro per automatizzare le sequenze di comandi e tanto altro ancora. A tutto questo poi vanno aggiunte due utilissime funzioni. Red Magic Studio, che permette di eseguire un mirroring del display su un monitor esterno tramite wifi o USB, sia per giocare che per lavorare. C'è poi X-Gravity, che consente di assegnare gli input su schermo a una periferica esterna, come ad esempio una tastiera o un controller. Una funzione utile soprattutto per quanto riguarda il gaming. Insomma ragazzi, è chiaro che questo smartphone mette a nostra disposizione tutto quello che serve per giocare al meglio e senza rinunciare veramente a niente. Un altro piccolo neo legato al software riguarda il supporto e gli aggiornamenti. Sinceramente non so per quanti anni sarà aggiornato lo smartphone e purtroppo, come sappiamo, l'azienda non è velocissima nel rilasciare né le patch di sicurezza né soprattutto gli aggiornamenti di Android. Quindi anche da questo punto di vista, secondo me, sarebbe arrivato il momento di migliorare il supporto. E dopo hardware e software, ovviamente arriviamo alle prestazioni e al gaming, anche se in realtà potrei chiudere questo paragrafo dicendovi che tutto è al top in qualsiasi situazione, condizione, con tutte le applicazioni, giochi e i programmi. È inutile girarci attorno, giocare con questo smartphone è un godimento puro. Tutti, ma proprio tutti i giochi, girano in modo fluidissimo, senza scatti, lag, al massimo della qualità e del dettaglio. Utilissimi poi i due trigger dorsali touch che lavorano a 520Hz. Sono velocissimi nella risposta e perfetti soprattutto negli sparatutto. Purtroppo però nemmeno questa volta è presente una vibrazione su questi pulsanti, che personalmente gradirai molto in modo da avere una sorta di feedback quando li andiamo a premere. Se non altro in questo caso sono più grandi e quindi sono più comodi da premere. Utilissima in ambito gaming anche la frequenza di campionamento del touch dello schermo a 960Hz, che lo rende veramente una scheggia, non facciamo in tempo a toccarlo, che il comando viene recepito. Veramente molto molto buona anche la risposta della vibrazione. Lo smartphone infatti finalmente restituisce un feedback aptico veramente incredibile, sia durante le sessioni di gaming, che mentre scriviamo ad esempio mail o messaggi. Sì, perché questo smartphone oltre a giocare ci permette di fare tutte le altre cose che facciamo con i nostri telefoni. Come ho già detto, chiaramente non abbiamo problemi nemmeno nella gestione di applicazioni o programmi. Tutte le app si aprono in modo incredibilmente veloce, non ci sono lago o rallentamenti e non c'è nessun problema nella gestione del multitasking. Concludo segnalando che come di consueto sono presenti delle luci RGB integrate attorno alla ventola, nei tasti dorsali a sfioramento e perfino nel numero 09 che compare sulla back cover. Questi led rendono lo smartphone ancora più tamarro e orientato al gaming. E passiamo adesso ad analizzare le fotocamere, che come sempre funzionano bene su questo smartphone, ma sicuramente potrebbero essere meglio ottimizzate. Lato fotocamera infatti abbiamo un sensore principale posteriore da 50 megapixel, precisamente un Samsung GN5 con stabilizzazione ottica, una fotocamera ultrawide da 50 megapixel, sempre Samsung JN1 con apertura f2.2 e campo visivo da 120 gradi e poi una frontale da 16 megapixel con apertura f2.0. Come scatta le foto questo smartphone? Come ho già detto, bene ma non benissimo. La qualità delle foto è leggermente aumentata rispetto al passato, ma siamo ancora lontani dagli altri smartphone disponibili in questa fascia prezzo. In generale le foto che otteniamo sono paragonabili a quelle di un buon medio gamma. Il problema come sempre non è tanto lato hardware quanto lato software, poco ottimizzato per tirare fuori il massimo dagli ottimi sensori che sono stati montati sullo smartphone. In generale comunque gli scatti sono molto validi con buona luce e comunque più che discreti con poca luce, anche grazie alla modalità notte che interviene in modo convincente. La messa a fuoco è veloce, è precisa ed è molto rapido anche lo scatto. Il bilanciamento dei colori e la correzione della nitidezza sono invece da ottimizzare in determinate situazioni, soprattutto in controluce. Appena sufficiente invece è la qualità della camera grandangolare, che soprattutto di notte restituisce tanto rumore, ma nel complesso offre scatti migliori rispetto al passato anche grazie alla maggiore risoluzione. Insomma, come sempre non si compra questo smartphone per scattare foto. E nel complesso questo è sicuramente il comparto meno valido di questo dispositivo. Ma potremmo comunque usare il Red Magic 9 Pro per immortalare i nostri momenti più importanti con tutta tranquillità. Frontalmente nascosta sotto lo schermo abbiamo una cam da 16 megapixel con tecnologia Udc di quinta generazione. Anche in questo caso la qualità è leggermente aumentata rispetto al passato, ma la camera soffre ancora tanto, soprattutto in controsole. Fortunatamente è quasi totalmente scomparso il brutto effetto patina o velo che sembrava coprire l'obiettivo nei precedenti modelli, anche se l'effetto viene eliminato tramite un intervento abbastanza forte del software che a volte crea immagini un po' troppo artificiose. I video infine vengono registrati fino all'8K a 30fps, discreta la qualità ma senza stabilizzazione. Meglio scendere al 4K a 60fps per avere un buon compromesso. E passiamo adesso all'analisi del comparto audio e ricezione, un aspetto dove questo smartphone si comporta molto bene. Veramente superlativo il comparto audio con degli speaker che suonano fortissimo e soprattutto alti e medi hanno una pressione sonora veramente molto elevata. Presente anche la certificazione DTS-X Ultra. Finalmente sono migliorati anche i bassi rispetto al passato e come sempre comunque possiamo personalizzare tutto l'audio grazie all'equalizzatore integrato. Non mi piace ancora però la disposizione degli speaker perché quando giochiamo rischiamo di coprirli con le mani. Nessun problema per quanto riguarda l'audio nelle chiamate e anche la ricezione è molto buona. Un altro aspetto incredibile di questo telefono è sicuramente la sua batteria che in questo caso è da ben 6500 mAh, praticamente un record. Presente la ricarica rapida a 80W che ci permette di caricarlo completamente in meno di 35 minuti. Come ho già detto purtroppo manca ancora la ricarica wireless però. Un altro piccolo appunto, l'ingresso per la ricarica si trova sempre sul lato corto e non su quello lungo quindi faremo fatica a ricaricare lo smartphone mentre giochiamo. Fortunatamente comunque l'autonomia di questo dispositivo è praticamente infinita quindi non lo dovremo ricaricare così spesso. È chiaramente difficile testare in modo preciso l'autonomia di uno smartphone da gaming perché tutto dipende da quali giochi usiamo e da quanto tempo li utilizziamo. Ma giusto per darvi un'idea, con i giochi più pesanti, quelli con la grafica migliore, la batteria consuma circa il 20% all'ora. In linea di massima comunque anche con un uso super intenso si copra tranquillamente almeno una giornata di utilizzo. Con un uso medio o addirittura basso si fanno tranquillamente due giorni e stando un po' attenti si potrebbero quasi toccare i tre giorni di autonomia. Veramente un record per uno smartphone del 2023-2024, soprattutto dotato di un hardware di questo tipo. Segnalo inoltre che grazie all'ottimo processore e alla super ottimizzazione hardware e software la scarica è assolutamente lineare e soprattutto quasi nulla se il dispositivo sta in stand-by per qualche ora, alla faccia di un Samsung che consuma anche il 10% o il 12% semplicemente lasciando il telefono appoggiato sulla scrivania per qualche ora. Come sempre prima delle conclusioni arriviamo al prezzo. Quanto costa questo smartphone? Beh ragazzi il Red Magic 9 Pro stabilisce un record oltre all'hardware anche per quanto riguarda il prezzo perché la versione base da 12.256 costa soltanto 649€ mentre la versione top da 16.512 costa 799€ nella colorazione con il retro in vetro trasparente che è bellissima e tra l'altro è quella di questa recensione. Come di consueto dopo il prezzo arriviamo alle conclusioni. Cosa ne penso di questo Red Magic 9 Pro? Come vi ho detto all'inizio video senza troppi giri di parole ad oggi è lo smartphone più potente presente sul mercato non solo per quanto riguarda il gaming. La cosa più sorprendente comunque è che tutto questo hardware venga proposto ad un prezzo super competitivo di 650 o 799€ che sono molti ma molti meno rispetto a tutti quelli degli altri concorrenti che sono già sul mercato e che arriveranno presto sul mercato. Come al solito questo Red Magic non è perfetto e ha qualche difettuccio che ormai si porta dietro da troppi anni. Però ragazzi questo smartphone nel complesso se ci pensiamo resta spettacolare perché a un prezzo inferiore ai 700€ o agli 800€ in base alla versione che comprate vi portate a casa il processore più potente oggi sul mercato e tutto l'hardware che gli ruota attorno. Chiedo però all'azienda di intervenire per migliorare quei piccoli aspetti che permetterebbero a questo dispositivo di diventare lo smartphone da gaming definitivo e sbaragliare quindi tutta la concorrenza. Ultimissimo appunto prima di chiudere con il video chi possiede già un Red Magic 8 o 8S Pro non noterà tantissimi miglioramenti rispetto al passato. A parte il design che è leggermente cambiato e secondo me nettamente migliorato le prestazioni alla fine non sono così diverse perché già gli altri smartphone erano super potenti super veloci e super ottimizzati ed è vero che su questo 9 Pro le performance migliorano ulteriormente ma non c'è un salto così importante così grande così evidente rispetto ai modelli passati quindi secondo me chi ha già un 8 o un 8S non sentirà tutta questa necessità o bisogno di fare l'aggiornamento al 9 Pro. Bene ragazzi con questa recensione io ho concluso se avete qualsiasi dubbio o domanda fatevi sentire qua sotto nei commenti e come sapete io vi rispondo sempre il prima possibile. Se il video vi è piaciuto o stato utile come sempre fatemelo sapere con un like a voi non costa nulla ma per me è fondamentale per continuare a far crescere il canale e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi per non perdervi tutti i prossimi video grazie di nuovo per la visione un saluto e alla prossima ciao da Riccardo.